Il talk di oggi con Studio Azzurro ha l'obiettivo di coniugare due mondi che sembrano apparentemente molto distanti, da un lato quello tecnologico e dall'altro invece un linguaggio molto fisico. La ricerca di Studio Azzurro, andare a indagare qual è quel punto di contatto che riesce ad unire il corpo e la tecnologia. Noi siamo stati invasi, ma abbiamo trascurato invece completamente un'invasione più sottile che è stato quello delle tecnologie nella nostra vita quotidiana. La pratica artistica di Studio Azzurro penso che sia fondamentale per uno studio in Accademia perché le loro opere e le loro installazioni interessano più corsi, dai linguaggi più tradizionali a quelli più innovativi e tecnologici. Queste scuole devono essere delle vere e proprie palestre di creatività nel quale chi frequenta questa dimensione deve sentirsi libero di osare e imparare a delirare ed avere delle visioni. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!